Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Stefania, frequento l'Università degli Studi dell'Insubria e sono una studentessa del terzo anno del corso di laurea in Scienza del Turismo. Ho scelto Insubria innanzitutto perché è un ateneo di dimensioni contenute che quindi mi ha permesso di avere un ottimo rapporto con i docenti. In più in Insubria ho trovato il corso di laurea che faceva per me, ovvero un corso che trattasse materie turistiche sotto l'aspetto economico. Questo corso di laurea, oltre alla possibilità di svolgere degli Erasmus, dà anche la straordinaria possibilità di frequentare un semestre in un'università americana, grazie ad un programma creato ad hoc in collaborazione con la Niagara University. Ho avuto la fortuna di partecipare a questo programma grazie al sostegno di Insubria e penso che comunque mi sarà molto utile a livello lavorativo come lo è stato a livello culturale.